Nella splendida cornice di Palazzo Moncada per una settimana dal 22 al 28 gennaio verrà omaggiato Oscar dell'Aira, artista nisseno recentemente scomparso, cui verrà ricordata la sua vita artistica attraverso i suoi disegni e i suoi schizzi raffigurando i suoi amici, la satira e la sua città. La mostra, dal titolo Disegni Spettinati, è stata patrocinata dal comune di Caltanissetta con il benestare della famiglia di Oscar dell'Aira, di cui abbiamo ascoltato i figli Federica e Ruben. Questa mostra è nata perché mio papà ha sempre disegnato per tutta la sua vita, ha disegnato per tutti i suoi amici, anche persone che incontrava durante i suoi viaggi, a chiunque praticamente ha sempre regalato un disegno, quindi spontaneamente è nata la proposta di questa mostra e noi abbiamo assolutamente, cioè siamo stati molto contenti di questa proposta da parte del sindaco, quindi abbiamo appoggiato questa richiesta e il nome della mostra, Disegni Spettinati, deriva dal fatto che lui ci teneva sempre ad aggiungere magari dei pensieri filosofici che chiamava pensieri spettinati, che non erano magari, erano delle divagazioni, dei voli pindali, ci chiamava e anche questa mostra quindi raccoglie tanti pensieri e l'abbiamo chiamata così Disegni Spettinati per questo motivo. Un ricordo di papà, allora sicuramente lui ci teneva in realtà molto ad essere pettinato, quindi possiamo aggiungere che Spettinati sicuramente non si riferiva ai capelli perché anche a noi ci teneva sempre che fossimo in ordine e tra l'altro faceva sempre anche delle caricature sulle foto ad esempio, delle vignette e mi ricordo questa vignetta di quando avevo 10 anni con i capelli molto lunghi, con scritto tipo che bello shampoo, una cosa del genere. Questa mostra nasce con l'idea di ricordare nostro papà che comunque ha tanto amato la sua città e per la quale ha fatto chiaramente tante caricature, tanti disegni con sempre affetto e grande sentimento proprio per la sua patria. Spettinati, la mostra si chiama Disegni Spettinati perché è una raccolta di diversi disegni senza una particolare tematica comune, vuole essere un pochino una raccolta un po' anche informale se vuoi di diversi anni di tutta la sua vita artistica qui a Caltanissetta e dintorni.